Ma perché fai questa cosa tremenda? Perché la fai tremenda? Ma si fa come vuoi, vuoi tremenda? Va bene, adesso dobbiamo iniziare il rock, via! Qui con noi, Bad Blues Band Vai, sì, scusate, Bad Tribe Il rock della Valeria l'avete già visto Non gli riusciva proprio Era molto dura Sentiva un gran male a suonare le corde della chitaria Ci proviamo noi, dai! Grazie a tutti Per malaria Non sei da male Con un uomo coni la vita non sei te Che ti resta da Che sei quel che è per te Un altro bambino non è normale perché Il seme marcio è solo dentro di te E il mormor E il mormor E il mormor E il mormor dice E le Non sei da male Non è male Chi è? E il mormor E il mormor E il mormor E il mormor Noi sei normale, normale che è Normale che è Normale che è Normale che è Via normale Via normale Ámanch Che è Oh! Right! Mamma ti senti a me Non sono male, non male, yeah Oh, oh, oh. Non sono il male, il male di chi è Il male di chi è Il male di chi è Preste il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.